Sandro Forigo è uno dei due soci e due fratelli della Roter Italia SRL. Ecco, Forigo, che cosa avete presentato a questa selezione di novità tecniche? Che macchina è o che componente è? Buongiorno, è una macchina perché è autonoma, si muove da sola con la propria energia e fondamentalmente è un portaattrezzi, cioè una macchina che si propone di agganciare uno, due, fino a tre attrezzi contemporaneamente e trasformarsi quindi in cantiere di lavoro potendo fare tre lavorazioni contemporaneamente, chiaramente una successiva all'altra. In che settore stiamo operando? Noi siamo un'azienda di riferimento nel settore orticolo e questa qua sarà una macchina che sicuramente si posizionerà nel settore orticolo e frutticolo, ma chiaramente possiamo tranquillamente avere configurazioni adatte anche al mondo agricolo. Diciamo il nome anche della macchina. Si chiama NRG con la G finale pronunciata con l'accento. Quindi non c'è la Y ma la G si pronuncia come nella lettera dell'alfabeto italiano. È una macchina elettrica? È una macchina completamente elettrica con batteria al litio e l'energia è questa. Voi avete cominciato a occuparvi di elettrico quanto tempo fa? Con Industria 2015 noi partecipiamo ad un progetto di CNH e ci venne la voglia, cominciamo a capire e vedere certe funzionalità, in particolar modo la super personalizzazione che ti permette di fare l'elettricità e la gestione. Abbiamo da allora creato all'interno dell'azienda un settore, c'è un reparto apposta a R&D, ricerca e sviluppo, dotato. Noi facciamo nostra elettronica e facciamo il nostro software. E da lì siete arrivati alla NRG. Lei si occupa dello sviluppo e della produzione, mentre il suo fratello è più dedicato all'aspetto commerciale e quindi arriva dopo che lei ha già finito il suo lavoro e ne avrà cominciato un altro. A volte è il contrario anche, a volte è la domanda del mercato. Diciamo che è un 360 gradi, tutto completo. Questo è sempre un fatto sano in un'azienda. Ma come, essendo una novità, perché l'aspetto innovativo, adesso diciamo anche qual è rispetto a quello che c'è già sul mercato, ma poi diciamo anche come farete a farlo conoscere, comunicazione, attività di marketing? Sì, allora, l'aspetto innovativo è che questa macchina si prefigge un obiettivo importante nel nostro mondo, è quello di fare il minor numero di passate su una certa linea di produzione e poter fare più operazioni. Ripeto, la macchina può arrivare a tre lavorazioni completamente una distinta dall'altra. Può essere con attrezzature portate, semplicemente, o con attrezzature attivate da presa di forza. Cosa faremo dopo? Cercheremo sicuramente di fare quello che ci viene bene, cioè trovare clientela, magari che vuole personalizzazioni, è il nostro forte, noi siamo posizionati bene nel custom, ma non disdegneremo sicuramente anche l'essere sub fornitori di altre aziende che potrebbero vedere nella nostra attrezzatura una base per sviluppare i loro attrezzi. Grazie Sandro Furigo.